Io credo che c'è una parte dello schieramento del centrosinistra che non può restare fuori da questa battaglia ed è la sinistra che fa riferimento a Selle o a Sinistra Italiana. Questa parte dello schieramento è stata sollecitata in queste settimane, in questi mesi, ad un rapporto, ad un dialogo più stretto. Le condizioni finora non si sono verificate, ma l'appello che posso fare dopo il 6 marzo è ritrovarci di fronte a un tavolo per discutere le condizioni della costruzione di un'alleanza larga, di un'alleanza larga che guardi a sinistra e guardi anche agli elementi civici, magari più moderati, che stanno in altri settori dello schieramento. A Roma, per le caratteristiche di Roma, il centrosinistra ha vinto sempre con uno schieramento largo e si è assaputo su questo schieramento largo fare delle politiche attive e inclusive capaci di conquistare il consenso della maggioranza dei romani. Io credo che le condizioni ci possano essere, se qualche porta verrà aperta, se si metterà insieme un tavolo per discutere le questioni prioritarie, a partire dal tema delle sofferenze della città, delle grandi fragilità che riguardano le persone, le singole persone, gli abbandoni della vita delle persone più anziane, delle famiglie. Sono questi i temi sensibili della sinistra, che in una città, in una metropoli che cambia, in una metropoli sempre più investita dalle grandi contraddizioni del nostro tempo, non possono vedere la sinistra divisa e far correre il rischio a Roma di riconsegnare l'amministrazione ad una destra, chiaramente in confusione, che tanti danni ha fatto, o a una forza, come il Movimento 5 Stelle, che sicuramente è una forza di grande consenso, ma che ha mostrato sempre un'incapacità a confrontarsi con il sistema di governo.